Nel 2016, quando ci siamo insediati, la Corte dei Conti ha difidato l'amministrazione di Gruttaglie a dotarsi di un agente della riscossione per i tributi locali, poiché questa mancanza comportava un danno erariale per l'ente e la città stessa. Da lì a poco predisponemmo un bando per l'individuazione di un soggetto economico che si occupasse del servizio e l'azienda che vinse il bando e l'attuale esattore che riscuota ed esige l'evaso nel modo che ritiene più opportuno. Solo nel caso in cui si andasse ad incidere sul reddito derivante da pensione ci sarebbe l'intervento esterno del giudice relativamente a procedimenti tributari in corso che ci vedono ricorrenti nei confronti dei proprietari dei terreni nei comparti C. Informo che un'amministrazione è obbligata a costituirsi, altrimenti rischia di essere accusata di danno erariale. Le precisazioni arrivano dall'assessore alle finanze della città delle ceramiche Mario Bonfrate. I rappresentanti dei comparti e il sindaco si sono impegnati reciprocamente su alcuni punti. Fa sapere anche quest'anno manterremo la riduzione sul valore venale dei terreni ricadenti nei comparti C e il gettito che il bilancio prevede di incamerare attraverso questa riscossione di tributi è intorno al 4 e 5 per cento sulla montare totale del prelievo da imposte percentuale dunque che a contrario di quanto si voglia far passare non rappresenta un banco ma tenè un salvadanaio per l'amministrazione.